Questo contributo è dedicato al tema dei giochi, dei giochi nella didattica, della didattica con l'uso dei giochi. I due termini sembrano ogni tanto in contraddizione, didattica e divertimento. Ricordo uno studente che alla fine di un'esperienza di scambio con l'estero mi disse professore lei non ci crederà ma in questa esperienza io mi sono divertito e imparato molto. Per lui due termini erano antitetici, questa era purtroppo la sua esperienza scolastica fino a quel momento e io ne sono probabilmente uno dei responsabili. Ma non è vero che apprendimento e divertimento siano così antitetici. Non lo sono soprattutto se il termine divertimento lo associamo al fatto di coltivare delle pespazioni, comunque fare delle attività con dell'interesse. Bene, intanto possiamo dire che siamo tutti coscienti che i cuccioli di uomo e i cuccioli di mammifero generalmente passano i primi periodi della loro vita giocando e questo gioco è quello che gli permette di imparare a muovere il proprio corpo, a prendere confidenza con gli altri, a muoversi nella realtà simulando magari quello che fanno il papà e la mamma, gli altri durti e così via. Quindi che il gioco sia connesso con l'imparare, con l'apprendere è una cosa che dovrebbe essere in qualche modo scontato. Diceva già Platone, si può scoprire di più su una persona in un'ora di gioco che in un anno di conversazione e quindi ne traeva la conseguenza, educa i ragazzi col gioco così riuscirai meglio a scoprire l'inclinazione naturale, perché uno dei compiti dell'insegnamento è aiutare a sviluppare le inclinazioni naturali diverse da uno studente e dall'altro. Diceva de Montaigne, i giochi dei bambini non sono giochi e bisogna considerarli come le loro azioni più serie. Sì, i bambini sono spesso serissimi quando giocano e con questo imparano, così come sono serissimi gli sportivi mentre giocano le loro partite o conducono comunque le loro attività sportive, così come sono serissimi e spesso gli artisti, così come è serissimo portare avanti delle passioni. Diceva Piaget, il gioco è lo strumento primario per lo studio del processo cognitivo del bambino e la più spontanea abitudine del pensiero infantile. E ancora, Georges Bernard Shaw, l'uomo non smette di giocare perché invecchia, ma invecchia perché smette di giocare. Smettendo di giocare spesso si smette di imparare. I scienziati spesso invecchiano meno gli altri lavoratori perché per loro la scienza è un gioco, è qualche modo coltivare un gioco. Scriveva McLuhan, coloro che fanno distinzione fra intrattenimento ed educazione, forse non sanno che l'educazione deve essere divertente e il divertimento deve essere educativo. Ecco qui i due termini messi insieme e lo dice anche Piero Angela, personalmente mi sono annoiato mortalmente a scuola e sono stato un pessimo studente. Tutti coloro che si occupano di insegnamento dovrebbero ricordare continuamente l'antico motto latino, ludendo docere, cioè insegnare divertendo. Quindi quella dell'educazione ludica, dell'educazione attraverso i giochi non è nemmeno un'idea nuova e recente, ma è un'idea che avevano quantomeno alcuni già al tempo dei latini. Diceva Brunner, il gioco offre un'eccellente opportunità per provare combinazioni di comportamenti che non sarebbero mai sperimentati sotto pressione funzionale. È un modo per minimizzare le conseguenze delle azioni e quindi apprendere in una situazione meno rischiosa. Il gioco come un imparare in un ambiente protetto, in cui ci si sente sicuri. Il gioco nella scuola come contesto diverso da quello dell'interrogazione, in cui si ha paura del voto, in cui si ha paura del giudizio, ma come un momento in cui ci si sta divertendo e quindi non si ha quel tipo di ansia. Il gioco, ancora, dice Brunner, educa il rispetto delle regole al movimento da un universo di significati ad un altro. Importante questo aspetto di imparare a muoversi da un universo di significati a un altro universo di significati, ma anche quello del gioco come educazione al rispetto di regole, perché ogni gioco ha una serie di regole che devono essere rispettate. Vediamo Vygotsky. Il gioco contiene tutte le tendenze evolutive in forma condensata ed è esso stesso una fonte principale di sviluppo. Nel gioco il pensiero è separato dagli oggetti e l'azione nasce dalle idee più che dalle cose. Un pezzo di legno comincia a essere una bambola e un bastone diventa un cavallo. Ecco, quindi il gioco anche come elemento per lo sviluppo della fantasia. Un'ultima citazione da Prensky. Uno dei problemi più grossi per l'intero settore dell'istruzione è quello di tenere gli studenti costantemente motivati. Credo che questo sia un problema che tutti noi abbiamo ben chiaro. Tutti noi che facciamo abbiamo fatto gli insegnanti. I videogame sono coinvolgenti perché l'obiettivo primario del game designer è mantenere vivo l'interesse del giocatore. Invece mantenere gli utenti coinvolti, gli studenti ovviamente, è un obiettivo che gli educatori non considerano primario. Il loro obiettivo è istruire, trasmettere nozioni a chi deve apprendere. Ovvia qui la critica. Invece gli insegnanti dovrebbero proporsi di tenere coinvolti, tenere alto l'interesse dei loro studenti, tenere alta la loro motivazione, perché è in questo modo e non attraverso la trasmissione, attraverso il parlare dell'insegnante che si apprende effettivamente. Provo a sintetizzare. Allora, perché i giochi nella didattica? Intento per espandere un processo di apprendimento che è quello naturale con cui partono i bambini. per aiutare gli studenti a mettersi alla prova in un ambiente sicuro, per il divertimento che può coinvolgere e quindi sostenere la motivazione, per stimolare la fantasia, per educare al rispetto al rispetto di regole. Non vado nei dettagli di questo brano che ho tratto da Wikipedia sulle tipologie di gioco. Leggo solo i titoli. Giochi senso motori, giochi di costruzione, giochi di abilità, giochi imitativi, giochi rappresentativi, giochi compensativi, giochi funzionali, giochi immaginativi, giochi di acquisizione. È chiaro che la scelta del gioco dipende per un verso dall'età degli studenti, ovviamente. Se vogliamo far fare giochi non soltanto nella scuola dell'infanzia, ma se vogliamo sviluppare la metodologia del gioco anche alle elementari, alle medie, alle superiori, all'università, nella formazione permanente. Intanto bisogna basarsi sull'età degli studenti, ma ogni tipologia di gioco ha a che fare con la messa in campo di abilità, atteggiamenti diversi e permette di conseguire competenze diverse. Quindi io sto facendo un discorso soltanto di carattere sul gioco, poi nelle situazioni concrete bisogna scegliere quali tipi di giochi far fare. Qui passo alcuni termini che sono di questi tempi in uso e che corrispondono a delle tipologie. Si parla di edutainment, educational entertainment, insieme queste due parole, l'educazione con l'intrattenimento. Riguarda tutte le forme di comunicazione, non necessariamente soltanto scolastiche, centrate sul gioco e finalizzate a un'acquisizione didattica o a una comunicazione efficace. Si parla di serious games, giochi veri e propri, generalmente videogiochi, realizzati con delle finalità diverse da quelle del puro intrattenimento e che rientrano in questo anche le simulazioni virtuali interattive. Si parla di gamification, quando in contesti differenziati, in contesti sicuramente diversi da quelli del gioco, si usano elementi mutuati dai giochi come i punteggi, i livelli, sono passato al secondo livello, passo al terzo livello, le ricompense di una serie di azioni portate avanti con successo, l'acquisizione di particolari poteri, anche qui in base a delle azioni portate avanti con successo, l'acquisizione di badge e così via. Quindi la gamification è l'utilizzo di elementi mutuati dai giochi in contesti diversi per incrementare la partecipazione e il coinvolgimento delle persone, anche qui non soltanto in ambito scolastico, ma anche in ambito scolastico. Ci sono poi le gare di robotica, un'attività che alcuni propongono agli studenti in cui generalmente a squadre si devono programmare dei robot e spesso prima costruire dei robot per farli partecipare a delle gare in cui i robot si affrontano a dover seguire determinati percorsi in un certo tempo piuttosto che a fare delle partite di pallone o quant'altro. Ecco anche qui sicuramente l'elemento in questo caso di programmazione, di capacità di realizzazione dell'hardware eccetera è centrato sul gioco, cioè il fatto di partecipare e fare una gare. Allora cosa può, deve fare il docente? Sicuramente acquisire un atteggiamento favorevole al gioco, favorevole a coinvolgere i propri studenti con attività, gare, premi, punteggi e sicuramente partire dall'idea di trasmettere agli studenti l'idea che ci si può divertire mentre si impara. Ovviamente questa è un'idea che si può trasmettere ma si può trasmettere soltanto con il proprio coinvolgimento emotivo, col fatto di essere il primo che si diverte nel fare queste cose. All'idea di questo atteggiamento l'insegnante che voglia fare usare gli studenti dei giochi può partire cercando quelli disponibili e coerenti con l'età dei suoi studenti e con gli obiettivi che vuole perseguire. Ci sono tante repository dove si possono trovare dei giochi didattici soprattutto per la scuola dell'infanzia e della scuola primaria ma anche per altre fasce di studenti. Spesso giochi esistenti possono essere duplicati e modificati per adattarli al proprio contesto e poi il docente può anche creare nuovi giochi. Adesso io non parlerò della possibilità di creare giochi complessi con strumenti che richiedono programmazioni complesse. Mi do qualche e con questo chiudo qualche semplice semplice strumento. CAUT permette di proiettare delle domande alla lavagna e avere gli studenti che con gli smartphone o con i tablet rispondono e con questo si possono anche organizzare delle gare e avere avere dei punteggi chi risponde giusto chi risponde sbagliato e alla fine chi ha fatto il risultato più elevato. Learning Apps è uno strumento che permette di creare esercizi giochi didattici test in modo molto semplice alla portata di chiunque sappia minimamente usare un computer e dei semplici programmi e contiene anche grosse repository di materiali già sviluppati da altri insegnanti. Analogamente H5P permette di creare una pluralità di esercizi, anche qui semplici da usare dal punto di vista tecnico. Poi l'insegnante deve metterci la sua capacità pedagogica per riuscire a realizzare un gioco che sia didatticamente rilevante, che crei dell'apprendimento oltre che semplicemente del coinvolgimento giocoso da parte dello studente. Quiz è un altro strumento per generare quiz da proiettare alla LIM con gli studenti che possono rispondere anche senza risponditore ma semplicemente a voce con l'insegnante che attribuisce alle squadre i punteggi in base alle risposte e così via. Treasure Hunt Generator è un generatore di QR code per realizzare delle cacce al tesoro basate sul fatto che nella classe vengano disseminati questi QR code a ciascuno dei quali corrispondono delle domande. Ma sono soltanto alcuni dei tanti strumenti disponibili che molti insegnanti già usano e che li aiutano a coinvolgere gli studenti nell'apprendimento, farli essere attivi e non soltanto ascoltatori passivi, generare un clima positivo e favorevole all'apprendimento. Grazie per l'attenzione e ci vediamo in un prossimo video.